Questa è la via per uscirne e se tutti capiamo che se ci vacciniamo tutti finalmente riusciremo a toglierci la mascherina e a riprendere la nostra vita, ne usciremo presto. Anche in Piemonte è il Vax Day. Con i mezzi della protezione civile e la presenza dei carabinieri, 910 dosi di vaccino anti-Covid sono giunte in cryobox a temperatura controllata in 10 punti di somministrazione in regione, tra i maggiori ospedali e le RSA pubbliche ad Alessandria, Torino, Asti, Cuneo e Novara. I primi ad essere stati vaccinati sono gli operatori del Servizio Sanitario Regionale e il personale delle RSA, tenuti poi sotto osservazione. All'ospedale Santi Antoni Biagio di Alessandria, alla presenza degli assessori regionali Vittoria Poggio e Marco Portopapa, sono state somministrate tutte e 90 le dosi nella sola giornata di domenica 27 dicembre. Il 18 gennaio è previsto il richiamo. Un giorno storico sul finire dell'anno che apre però ad una nuova fase. L'espressione degli occhi di questi infermieri che hanno già portato avanti quello che è la grande avventura del vaccino, quello che sicuramente ci porterà a grandi risultati e forse ritornerà alla normalità, anche ad Alessandria che abbiamo avuto questo onore. 90 vaccini oggi è un numero importante perché è un segnale di quello che sarà probabilmente il futuro della nostra salute. Crediamoci, dobbiamo assolutamente proseguire questo percorso, domani arriveranno gli altri da distribuire per tutta la provincia e quindi è un gran giorno oggi. Questa è la giornata che tutti attendevamo in tutta Italia, noi come Regione Piemonte e oggi qui ad Alessandria, nel nostro presidio sanitario, ha iniziato la vaccinazione che è l'unica arma strategica per ridurre i contagi. Ovviamente qui sono stati già molto bravi perché hanno già fatto le 90 vaccinazioni predisposte, quindi dove deve essere e si pensa fosse essere questa una giornata che doveva testare la complessa macchina organizzativa predisposta, occorre dire che qui in questo ospedale di Alessandria si è già proceduto in maniera molto veloce e molto puntuale. Grazie a tutti.